Musica Comunque il rumore che sentite nelle storie che è tipo non è un vibratore ma è la piastra per i capelli che non ci siano incomprensioni ho appena registrato la reaction al video misterioso che mi è stato mandato per mail e ragazzi ve lo giuro non è per fare clickbait ma non so cosa dire cioè non posso spoilerarvelo però porca di quella puttana io sto in ansia al momento sto in ansia e penso che mi chiuderò in casa sono perseguitata dagli psicopatici cioè io c'ho i brividi ho appena finito di guardarlo quel video ho i brividi ancora io non so cosa sono allibita allibita porca in ogni caso io sono malata mentale e quindi non so come sia possibile che dopo aver visto quel video raccapricciante io abbia fame ma fa lo stesso quindi adesso andrò a mangiare della ricotta con il miele oh yes oh yes oh mi chiud지 oh my god Grazie a tutti.